Donatella di Pietrantonio con l'età fragile per la narrativa, Massimo Teodori per la saggistica con anti totalitari d'Italia e Giorgio Zanchini con esistono gli italiani, sono i vincitori della diciannovesima edizione del premio nazionale di cultura Benedetto Croce che vedrà gli eventi conclusivi a Pescasseroli il 25, 26 e 27 luglio con la serata finale delle premiazioni. Menzione speciale per i Giabba Scego con Cassandra Mogadiscio. Tante le novità, un riconoscimento speciale a Luca Serrianni e il convolgimento delle scuole di una scuola pescarese in particolare in un momento di grande tristezza e sgomento per la comunità dopo la morte del giovane Thomas. Gli dedicheremo questo riconoscimento che andrà ad una delle scuole abruzzesi che fanno da giuria popolare con il premio Croce, incentrato su una buona pratica nel rapporto scuola-territorio. Ha vinto secondo la giuria il Laterno Mantonè di Pescara che al proprio interno c'ha sia la didattica di una scuola normale, poi c'ha il carcere di San Donato e c'ha anche il dopo scuola per adulti. Il tutto in una delle zone più difficili della città di Pescara. Saranno tante altre le iniziative. Sarà presentato un inedito di Benedetto Croce, il re di vivo Benedetto Croce, il quaderno segreto, il premio alla memoria invece andrà a Jacques Delors, costruttore della Nuova Europa Unita, ma ci saranno anche proiezioni e dialoghi tra autori. Presidente della giuria come sempre, la scrittrice Dacia Maraini. Presenteremo un inedito di Benedetto Croce che è stato curato da Emma Giammattei per la casa editrice Epli e che praticamente entrerà a far parte di tutta la collezione delle opere importanti di Benedetto Croce e sarà al centro anche dell'attenzione della cultura italiana nei prossimi anni.